Buongiorno ascoltatori, siamo a Comacchio, Lido Scacchi. Stiamo sul posto per notare alcune anomalie, alcuni lavori malfatti o trascurati da parte dell'attuale amministrazione. Con noi c'è l'onorevole Tomasi Maura. Che cosa ci dice di questa situazione? Perché qui vediamo degli spazi per i disabili, però in questa situazione, guardate un po', se lo disabile scende qui si fa male, insomma. Come mai c'è questa incuria, questa trascuratezza, persino nei confronti dei disabili, insomma. Ma qui davvero il territorio pare abbandonato, basti guardare l'incuria anche soltanto del manto stradale. E soprattutto, del fatto appunto, che mancano le righe, insomma, le righe gialle, ma ancor più impossibile, soprattutto per chi ha delle disabilità, poter parcheggiare in questo parcheggio, guardatelo, e poter scendere. Anche perché se uno scendendo a una carrozzella, perdonatemi, non so come potrebbe, potrebbe riuscire ad andare, ad andare anche solo su marciapiede, dove non c'è nessuna salita, nessuna discesa, proprio in prossimità di questo parcheggio. Sì, che poi non è che siamo proprio in periferia, qui siamo al centro, vedete, c'è proprio parcheggio con uno dei parcheggi principali, adesso ho fatto una zoomata per evitare di far vedere le targhe, insomma, non è che siamo proprio in una zona periferica, è il parcheggio principale che ci ha scacchi, tutto sommato, per cui dovrebbe esserci una maggiore attenzione. Adesso ci spostiamo in un altro punto, abbastanza trafficato, perché non è solo questo il punto problematico.